Buonasera a tutti, video molto breve per commentare quello che è successo oggi tra tennis e olimpiadi. Nel tennis abbiamo avuto le finali a Gastad, dove Rudd ha battuto Gaston per 6-3-6-2. Abbiamo avuto la finale a Umago, dove la giovane stella nascente Alcaraz ha letteralmente preso a pallate Gasquet, altra vittoria in 2-7 e altro massacro per 6-2-6-2 e poi c'è stata la vittoria, anche questa piuttosto netta, di Norri su Nakashima e anche questa partita è finita, 6-2-6-2. Praticamente le finali si sono differenziate solo perché Rudd ha fatto fare a Gaston un game in più degli altri due. ha vinto 6-3-6-3-6-2 invece che 6-2-6-2. Le altre due finali sono finite entrambe 6-2-6-2, quindi poco da commentare. Se non vi dico la verità, a me Alcaraz ha fatto una grandissima impressione, quel ragazzo riesce a tirare forte da qualsiasi parte del campo e centrare il campo, cosa che riusciva fino a qualche tempo fa anche al nostro Sinner. Speriamo che si riprenda perché questo ragazzino a 18 anni insomma viene su molto bene. È un pericolo che dopo Nadal gli spagnoli possono aver trovato un nuovo fenomeno. Ora è ovvio che difficilmente vincerà 14 Roland Garros, anche perché io vi ripeto, di finale ho visto solo un mago e ho visto anche la semifinale. Ha dei momenti in cui perde il bando non è matassa, cosa che non capita a Nadal. Va anche detto che ha 18 anni e che questo cito gioca veramente, veramente, veramente molto bene. A me mi ha impressionato, poi sbaglierò io a darlo troppo più forte di quello che è, ma insomma questo ragazzo viene bene e fa veramente impressione. Parliamo dei nostri ragazzi alle Olimpiadi. Olimpiadi che vedono oggi l'Italia con tre medaglie di bronzo. La Longoborghini nel ciclismo su strada è riuscita a strappare un buon terzo posto. Ce l'ha fatta anche Zanni nel sollevamento pesi e Giuffrida è ancora sul podio e ancora di bronzo. Insomma, questi sono i tre bronzi di eventi da segnalare. Oggi alle Olimpiadi c'è stata la sconfitta nel basket di Team USA che quando perde fa ovviamente sempre notizia perché succede molto di rado, sconfitta dalla Francia. Non perdeva alle Olimpiadi da Atene 2004 quando la nostra Italia arrivò in finale e fece Argento se non erro perdendo la finale contro l'Argentina. non vorrei sbagliarmi. Per quanto riguarda la Pilato è stata squalificata dai Cento Rana, gala deludente e poi nella scherma purtroppo non è andata bene perché per la prima volta dopo tanto tempo la scherma non porta, almeno per ora non porta medaglie La Volpi è arrivata quarta e dopo 33 anni l'Italia non riesce, almeno per ora, a vincere una medaglia nel fioretto. Erano 33 anni che l'Italia alle Olimpiadi prendeva medaglie. Invece questa volta no, questa volta purtroppo non è andata. Buona nel beach volley la coppia Lupo Nicolai che hanno battuto Toil Vicker che sono i vice campioni del mondo in carica. Per quanto riguarda poi il resto, l'Italia è sesta nel medagliere con un oro, un argento e tre bronzi per un totale di cinque medaglie Comanda la Cina con sei ori, un argento e quattro bronzi Cos'altro dire? Poco altro da dire se non che sono Olimpiadi dove non essendoci pubblico chiaramente e soprattutto gli orari rendono molto difficile seguire queste Olimpiadi Ah, dimenticavo, la Venezia Ferrari è in finale nella ginnastica Speriamo che la giornata di la notte, di stanotte, sia una notte con più medaglie rispetto alla giornata precedente, soprattutto con medaglie di un pochino più valore un bronzo olimpico è comunque un gran risultato ma certamente bisogna, l'auspicio è centrare almeno un altro oro e vincere insomma le Olimpiadi e per quanto riguarda il tennis da domani Sinner lo troviamo impegnato ad Atlanta Cecchinato e Travaglia sono a Kitzbühel quindi seguiremo le Olimpiadi e i tornei già dal video a partire da domani Grazie a tutti e buona serata Grazie a tutti